non so se da noi o cosa però la casa per sicurezza stanno parlando stanno parlando non ci credo vicini vuol dire lo vedo su sto tetto qua e magari sono sotto di noi proprio si è buttato anche ho visto uno che si buttava da un tetto questo noccato uno l'altro detto bombardo 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 un bombardo porca troia senti sotto ma è la barricata anche ricordati si devono venire da noi questi qua è un bar di prefire bro ma dai possibile ma eravamo nelle scale di brutto ma dai ma non esiste ma brother ma nella scala ma poi ma come fossi buttati sull'uscio della po eravamo giù di due piani tra una scala e l'altra apposta sappiamo che non ha senso sta roba in realtà su un suor zon uno sta roba non succedeva è perché se comunque eri nelle scale così era non ti prendeva io mentre ne entravo mentre ero lì pensavo morirò ma poi dicevo è impossibile dai siamo sotto di tre piani poi è cambiato un gioco è un altro gioco io ho detto impossibile che moriamo qui non